Musica Vediamo quali sono i titoli principali dei quotidiani regionali online, partendo dalla prima pagina di Sassari Notizie. Sassari, acqua non adatta al consumo umano diretto in alcuni quartieri della città. L'acqua non è adatta per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale. Lo si legge nell'ordinanza adottata ieri dal sindaco Nicola Sanna, a seguito dei controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e della ASL. Dagli esami è emerso che l'acqua della condotta non è conforme ai parametri relativi all'alluminio, magnese e turbidità e dunque è inadatta al consumo diretto. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina della Nuova Sardegna. In primo piano la cronaca, invasione di Corsia, mamma e figlio travolti dalla Sab, si indaga per omicidio colposo. E' l'ipotesi di reato formulata nei confronti di Giacomo Ritos, il giovane di 24 anni che era la guida dell'auto che ha travolto l'Apolo sulla quale viaggiavano la donna con il bambino. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina dell'Alger.it. Consiglio non stop su Ryanair, quasi sette ore di consiglio comunale ad Alghero senza o nulla di fatto. Lunga discussione sulla mozione presentata da Forza Italia in merito ai tagli Ryanair su cui la maggioranza chiede un rinvio per arrivare ad un documento condiviso. Proseguiamo con la prima pagina di Olbia.it. Approvati un milione di euro di lavori pubblici. Ieri mattina la giunta comunale guidata dal sindaco Gianni Giovannelli ha approvato alcune delibere relative ad altrettanti lavori pubblici per un totale di un milione di euro. Circa le delibere in questione sono state proposte da Davide Bacciu, assessore comunale lavori pubblici. La prima delibera approvata riguarda l'abitumazione di numerose strade cittadine a cui seguirà nel 2016 un'altra delibera per un'altra tranche di lavori pari a 1,3 milioni di euro. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina delle cronache nuoresi. Un fatto di cronaca. Orgosolo, assalto fallito in pieno centro al Corriere S.D.A. Banditi in fuga a mani vuote. Tentata rapina intorno alle 19 di ieri pomeriggio in piazza Manua Orgosolo. Un colpo col calcio del fucine in faccia per mettere fuori gioco il Corriere dell'S.D.A. in sosta per una consegna. Ma qualcosa va storto e i maviventi sono messi in fuga a mani vuote. Fortunatamente nessuna conseguenza grave per l'uomo. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina di illatv.it. Comune di Oristano cede quote del porticiolo Torre Grande. Il Comune di Oristano cederà la sua quota di maggioranza della società marine oristanesi che gestisce il porticiolo turistico di Torre Grande. Lo ha deciso il Consiglio Comunale approvando con 16 voti favorevoli e 9 contrari la proposta illustrata dall'assessore alle società partecipate Giuseppina Uda. Il Comune detiene l'86% delle quote. Proseguiamo con la prima pagina di Cagliari Pad. Figlie chiuse in casa per motivi religiosi condannato. Un anno e otto mesi di carcere con pena sospesa. Questa è la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale Francesco Alterio nei confronti del tunisino di 56 anni che avrebbe costretto tre figlie e ventenni a stare chiuse in casa. Infine concludiamo con l'Unione Sarda.it. Ex Alcoa spunta un acquirente svizzero. Buone notizie da Roma e da Bruxelles. C'è un gruppo svizzero che opera nel settore della trasformazione dell'alluminio, la Sideralloi, interessato a rilevare l'ex Alcoa di Portovesme. Lo si è preso ieri a margine del vertice convocato a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico per valutare le proposte sul futuro dello stabilimento di Portovesme. Con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. Buona giornata. Buona giornata.